ok pausa pranzo finita e forse sono un attimino svegliato dopo 8 caffè direi che possiamo continuare con la nostra challenge dei tre giorni di naslock e tra l'altro nell'ultimo episodio mi sono dimenticato di dire che non seguirò la regola della lotta fissa perché mi sta sui coglioni e perché rende tutto anche troppo troppo difficile forse la aggiungerò più avanti se inizierò a diventare troppo over leveled ora direi che con questa squadra in particolare direi di no andiamo contro il team rocket forse catturare cannes è stato un errore ho vinto io che capri pontus è voluto fuori 1 fuori 2 fuori 3 allora adesso però c'è un problema che rivale mi aprirà il culo ma cosa dice che mi allenerò tantissimo nella stanza dello spirito del tempo quindi capri ponti ti metti di davanti e la seconda ora la passiamo così e beh direi che lo sappiamo tutti giusto bentornato o meglio bentornata perché è meno ok direi che tu puoi andare bene così e quindi siamo pronti ad aprire il culo al nostro rivale fortissimo beccati questo ti catturerò no è morto gigitogo preso faxian is dead speriamo non questo e adesso possiamo andare a fare i beni stronti alla palestra ok io direi che si può provare così potrei pentirmene amaramente ma ok paxian is not dead piangi piangi stronti quello che ti meriti puttano allora direi che la prossima palestra sarà un'altra rottura di coglioni figa che palle odio gioto si si dice gioto non si dice ioto oddio santo vai via vai via vai via ciao bello no che esce dalla palestra ti fa lo scherzone tu pensi oh no devo già riaffrontarlo e no sono qui per farti perdere tempo mamma mi ha trovato un altro hobby tipo troppo ricoglione alla gente ops credo di avere un pochino esagerato però vabbè dai può può bastare sto arrivando angelo troppo poco sarà un angelo di nome di fatto ah 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 sono divertente seguitemi sul mio canale youtube sono divertente punto porco schifo sono stupido anche allora se vedete a volte che mi metto a salvare a volte perché devo salvare immetti che mi salti la corrente un'altra volta e che prima non è stato proprio divertente oppure perché devo controllare quanto tempo sto impiegando perché devo impiegarci esattamente tre giorni quindi 72 ore e siamo già 52 si contano anche quelle velocizzate bene un altro è andato adesso puoi hai velociera il faro per allenarsi sono stato tutto il tempo lì nel cazzo se sono cretino va bene dai direi che come seconda parte di questa challenge può anche bastare quindi ci diamo all'ultima parte ciao 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 ciao